Tutto pronto per uno dei periodi più attesi dell'anno, ossia i saldi estivi, che avranno inizio nel Salento come nel resto della Puglia il 6 luglio, con un'importante novità in favore dei consumatori. Dal 1 luglio sono infatti entrate in vigore nuove misure sugli sconti di fine stagione, previste nel decreto legislativo approvato lo scorso 7 marzo, e che impone regole più rigide sulla trasparenza dei prezzi e delle vendite, prevedendo inoltre sanzioni più pesanti in caso di pratiche commerciali scorrette. La principale novità, spiega Kodakons, riguarda gli sconti farlocchi, praticati proprio dai commercianti, ossia l'odiosa pratica di alzare il prezzo di un prodotto prima di applicare la percentuale di sconto durante i saldi. Un illecito che ora non sarà più attuabile. La nuova normativa prevede l'obbligo per i negozianti di indicare chiaramente, oltre alla percentuale di sconto e al prezzo finale, anche il prezzo più basso applicato alla generalità dei consumatori nei 30 giorni precedenti. Quindi, quando gli sconti divengono via via più alti, come accade durante i saldi, il prezzo precedente da indicare è quello riferito ai 30 giorni antecedenti l'avvio dei saldi. I commercianti che non si atterranno a tale nuova regola andranno incontro ad una sanzione da 516 euro a 3.098 euro. Una misura che adesso, grazie al nuovo decreto legislativo, si applicherà non solo ai negozi fisici, ma anche alle vendite online. Del resto, il coda consiglia ai consumatori di prestare attenzione sempre negli acquisti, attraverso piccoli accorgimenti e consigli. Innanzitutto, si raccomanda di conservare sempre lo scontrino per un eventuale cambio, sia infatti due mesi di tempo per farlo. Bisogna inoltre di fidare dagli sconti superiori al 50%, che spesso nascondono merce non proprio nuova. Meglio quindi servirsi nei negozi di fiducia o acquistare merce della quale si conosce già il prezzo, in modo da poter valutare liberamente e autonomamente la convenienza dell'acquisto. Si consiglia inoltre di non acquistare nei negozi che non espongono il cartellino che indica il vecchio prezzo, quello nuovo e il valore percentuale dello sconto applicato. Inoltre, per i pagamenti, si ricorda che il commerciante è obbligato ad accettare forme di pagamento elettroniche anche durante i saldi, senza oneri aggiuntivi.